Ciao a tutti ragazzi, ben trovati su Horizon Zero Dawn. Proseguiamo con la missione La Via del Capoguerra. Adesso abbiamo trovato l'insodiamento dove sono morti tutti. Andiamo ad ispezionare. Forse il Capoguerra ha lasciato qualcosa. Magari un indizio sui suoi spostami parecchie macchine. Tutte controllate dagli assassini. Hanno lanciato una mandria impazzita giù dal pendio. In ora sono riusciti ad abbattere un corruttore. Ma non prima che gli assassini lo usassero per mandargli contro altre macchine. Altro da ispezionare. La macchina deve ispezionare. Qua lo connessi proprio stupid. Sta arrivando. Morti e feriti sono sistemati. Ci sono altri audaci o guaritori? Solo io. Sei ferito? Che è successo? Di tutto. La fuori è il caos. Il Capoguerra mi ha mandato per fare rapporto. Così non le sono utile. Dov'è? Dov'è? Aspetta dove è Sona. Varle mi ha mandato a cercare Sona. Hai idea di dove sia ora? Posso dirti dove ci siamo divisi? Alla torre di metallo a sud-est delle rovine di sete del demone. Guarda l'altura dietro. Quella col macigno. Io andrò all'abbraccio e dirò quello che so a Varle e agli altri. Che la madre ti dia forza. Ti s... Ok, allora li vado a cercare Sona. Purtroppo non ho più neanche mezzo cavallo. Perché me hanno ammazzato delle macchine. Lui bellino difendeva me. Allora adesso faremo la missione del collo lungo. Se ce la facciamo, noi possiamo di regola scalare. Guarda, 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 guarda. Guarda, 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 guarda. Guarda, 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 guarda. Credo che da qui dovrei riuscire ad atterrare sul collo lungo. Ok. Vai, vai, vai. Figo, lui. mi dispiace vedrò di fare ok guardiamo così il collo lungo ricorda tutto quello che incontra sul suo tragitto e invia quello che vede alle altre macchine allora praticamente serve tipo da punto panoramico ok la missione del primo fallo lungo l'abbiamo fatta adesso dobbiamo tornare indietro frigi radice frigi da ora dico che scrive andiamo all'ultima posizione nota di sona così l'andiamo a cercare e vediamo che fine a posto il capo guerra sono deve essere l'altura menzionata dal messaggero di sona si saranno fermati per riposare non deve essere stato facile andare avanti dopo l'imboscata ok allora esamina quel vecchio arco ne ha passate delle belle nessuno lo lascerebbe qui di proposito sona subito perdite vende per feriti potrai seguire le tracce di sacco un'uccisione recente appena scogliata sono e seguiamo le tracce dove devo trovare le tracce però dove sono le tracce di là ok quindi mando via quindi iniziamo le tracce e andiamo a scettare sona tracce stivali e sona sembra che sona e gli audaci si siano diretti verso quel crinale ok oh oh vai 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 dove sei andata alla zona un secodonte morto forse è stata sola potrebbe essere vicina o cazzo io non senti niente è una sorda oh, non puoi capire si è? suona? si è su si è su con coraggio si l'ho visto uccidere una macchina corrotta ma è preoccupato per te alla tribù serve forza non affetto ho rintracciato alcuni degli assassini della prova io vol... non ne hai idea mostramelo dammi la tua forza dove si fa? dove si va? gli assassini sono oltre il crinale scavano nella terra proibita il peccato degli antenati è sepolto là sotto il demoni corruttore so con i sani ne ha ucciso uno a veglia della madre dici davvero? vediamo se manterrai le aspettative se volete che dico le cazzate aspetta un attimo lo spazio lo spazio lo spazio lo spazio lo spazio andiamo suona aspetta o suonata aspetta ore fa alcuni audaci si sono nascosti negli alberi attaccheranno al mio segnale il nemico e le macchine demoniache sono numerosi ma noi abbiamo la furia dalla nostra parte possiamo contare su altro spiegata la vampa la usiamo per il fuoco l'oro per le esplosioni è così che hanno scavato quindi le diamo fuoco e poi? boom allora iniziamo ehi aspetta non c'è fretta dammi un po' di tempo per farmi avvicinare se dovessi allarmarli attacca va bene vediamo cosa si bruciare la vampa c'è quella verde con me io non sto davanti eh dove sto davanti vedete quello spazzino ok allora andiamoci di arco via 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 passiamoli fuori eh ah ma io comunque potrei far scadere avanti via 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 iniziamo la lampa c'è di sotto ma ora via 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 Eh, è morto. Lei vuole accattar qualcuno. Fa pure il giro con la vampa, lei. Grazie. 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 Mori? Ma che un'quanto Non è che a prenderci Questa è che io non ho bisogno No, no, no. No, 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 no. 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 No, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.